Ciao visite. Si gratta? Ciao visite. Sta facendo la scarpetta. C'erano tutti i residui. Se li sta beccando tutti. Ora andiamo. No la pelicina no. Non la pelicina, non la pelicina, non la pelicina. Non fai il mare chiuso. Si si la pelicina, si si la pelicina. Mi fa male però eh. Il braccialettino. Dio il braccialetto? Da terra, da terra. Una grattata. E' bene sembra estrema. Ecco. Lo tengo così perchè se mi spari, almeno spari. Mori spicca al volo. Non puoi niente. Ci vorrei mettere il dito ma non mi fida. Sì. E' troppo fatta. Che vuoi di accarezzarlo? No, 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 non ci tento neanche. Sto dipendendo. Sono belle. E' passato un missile? Un terrario. Mi sento fino a quando non se ne va? Bello eh. Mi guardava. Tranquillo questo. Si. E non è sguaiato come la suocera quella di là. A sua sorella. Quella di là mi sembrava una sguaiata americana. E' che... Mi ha leccata. Mi trovo di passare la lingua. Però non ti ha morsiò. No. 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 Non è tentato. E' curiosito ma non è tentato. E' più calmo. Ci sono poi andata. Non mi sparassi una magliotta pulita. Lo scuola sempre a sola. E' una lampa buona. Si sta riposando. Mmm. In testa però non manco uno stavolta. Però questo è calmo. Si guarda intorno. Però non ci agito. Adesso fermi la cacca sui braccialetti, disinfettami i braccialetti, beh fermala pure, però lo spegne alla fine, è ancora di prima Ma mi devi aver preso per l'albero, mi devi aver preso per il ramo Ho sparato il cuore Ma se che è, che ne è il progetto E se è ancora cosa si fa Io sono d'accordo, è molto Io poi si metto a dormire C'ho un muscolo e poi si è addormentamento Prometti che non spari? Prometti che non spari? Ok, ferma pure se vuoi C'è il primo piano Guarda come ce l'ho vicina Odora con il lievacacalino Odora di biscotto Non è nulla Non lo so Mi ringrazio Non lo so Non lo so Non lo so Non l'ho Non lo so Non lo so C'è il ciotto sei grappato per scendere e non c'è nulla mi dispiace fare nel bicchiere